Ciao amici, sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Da questa settimana partiamo con un appuntamento fisso. Il rugby, come sapete, è uno dei miei sport preferiti, ho deciso ogni martedì avremo il nostro appuntamento, poi decideremo magari di dargli un nome particolare, nel quale vi parlerò, analizzerò una delle gare che ho seguito nel weekend. Purtroppo abbiamo un maledetto algoritmo che gestisce un po' anche quello che uno vuole fare su YouTube. Il rugby è uno sport nel quale i numeri, anche di visualizzazione, sono minori rispetto ad altri sport che seguo nel canale, questo mi manda giù anche nelle ricerche per gli altri sport, ma chi se ne? Io invece voglio di parlarvi di uno degli sport che amo di più. In particolare, in questo caso, l'attenzione va sulla seriala A Elite, che come sapete è anche un torneo che mi appassiona molto, perché l'URG è bello, soprattutto sto guardando, ho guardato una Leinster, una Manchester Leinster veramente meravigliosa, quando siamo ad altissimo livello abbiamo partite comunque belle, però l'URG è un torneo che ancora non riesce a coinvolgermi fino in fondo. A me invece la Serie A Elite piace molto, poi il rugby dei mesi invernali è ancora più bello, con i campi pesanti, le battaglie di trincea, com'è stata questa sfida tra i Lions Piacenza e Rovigo, vinta per 18-33 da Rovigo, al termine di un incontro molto combattuto, Rovigo che riesce quindi a superare quella che è un po' la sua bestia nera, in questo campionato subito della prima giornata, gran bella vittoria, e avevo fatto il video anche a commentare quella partita per i Lions, che negli ultimi anni peraltro a casa propria avevano sempre messo molto in difficoltà la formazione campione d'Italia, viceversa stavolta Rovigo è riuscito a essere molto concreto, molto solido, soprattutto in difesa. Uno degli altri punti di forza della formazione rodigina sicuramente è la mischia, invece in questa partita diciamo c'è stato un po' alto e basso con la mischia, anche perché è stato piuttosto faticoso anche per l'arbitro russo riuscire a mettere d'accordo le prime linee a come giocare alle mischie, ci sono stati tantissimi, forse troppi, reset, prima che venissero prese delle decisioni, quindi da questo punto di vista Rovigo è stato buono, forte, come sempre, ma magari meno dominante che in altre gare. Però è stato invece moltissimo in una difesa che ha impedito molto spesso alla formazione piacentina di riuscire a sviluppare il proprio gioco a largo. Dal punto di vista del punteggio Rovigo ha preso la gara in mano da subito, Atkins preciso, ma non troppo dai calci, perché adesso non ha preso la statistica 5 su 8, alla fine per lui qualche errore, un paio di calci anche magari non proprio impossibili, però a Rovigo la grande capacità, anche sfruttando errori, soprattutto nella fase iniziale da parte della formazione di Piacenza, di essere ciniche e di sfruttare l'occasione. È una vittoria fondamentale anche perché è arrivata anche il punto di bonus e questo permette, grazie ai risultati anche nelle altre partite, di tornare in vetta alla classifica insieme a Viadana. Questo campionato si pronuncia secondo me molto molto interessante perché abbiamo tante squadre, più forse anche del solito, che sono su un livello compatibile, piuttosto simile e quindi le gare interessanti credo non mancheranno anche nelle prossime settimane. Certo c'è difficoltà a dare anche un po' di ritmo a questo campionato, sono molte le pause, anche adesso si è giocato questa settimana, si starà ancora fermi un paio di settimane, il prossimo turno è a fine di gennaio, è ovvio, con tutti gli impegni anche internazionali che ci sono, far collimare tutto nel calendario non è facile, però questo sicuramente rende un po' più difficoltoso riuscire a prendere un po' di ritmo. Rovigo ha sicuramente dato conferma a quella che era stata la bella vittoria contro Padova nella gara del giorno prima della vigilia di Natale ed ecco qui anche questo successo di grande sicurezza, è un successo che ripresenta Rovigo in una posizione di classifica così positiva. Tanti giocatori mi sono piaciuti in questa partita, Didrisch-Ferrario come estremo l'ho visto piuttosto competitivo, niente male la prestazione di Vaccari, molto bravo ad andare a concludere il gioco a largo, ben messo in ritmo da parte della squadra, Bene Chillon, un pegnano di mischia molto intelligente e molto esperto che ha sicuramente vinto la sfida contro i diretti concorrenti, niente male la prova anche poi della seconda linea, Steolo e Ferro trovo che abbiano giocato molto bene, così come la prima linea quando poi è entrato Svanepo, Svanepo sicuramente dà tanta solidità e dà tanta forza alla prima linea di Rovigo, niente male anche la prova sia di Casado Sandri che di Sironi che mi sono piaciuti molto anche loro. Atkins come detto è sicuramente un lusso perché è un giocatore di grande intelligenza, solitamente anche molto molto preciso al piede, questa volta magari qualche errore di più rispetto al normale, però la giornata sicuramente non era delle migliori, faceva freddo, la pioggia, come detto questo rugby di questi mesi invernali che a mio avviso è qualcosa di veramente troppo spettacolare che io adoro tantissimo, anche se poi leggo come sempre sui social lamentele, il livello, ma chi se ne frega ragazzi abbiamo partite così belle, così combattute e poi tanto tante volte questi ragazzi nascono da questo livello e poi riescono ad approdare anche il livello successivo, l'URC magari poi ad avere le loro carriere nazionali, perché no, secondo me è qualcosa di più che rispettabile, di sicuramente bello, di sicuramente bello, di sicuramente godibile. Buona la prestazione di Tripodo che quando è entrato nel secondo tempo non è riuscito ad andare a segnare due mete per i Lions, Lions che sono una squadra molto interessante, che a mio avviso gioca comunque un rugby piuttosto piacevole, sicuramente l'infortunio subito di Portiglio, che aveva già fatto un paio di errori, perso un paio di palloni anche importanti, però è stato sicuramente un limite per la formazione piacentina, mi è piaciuta la prova di Biffi dietro, il capitano Bruno anche sempre molto impegnato, coinvolto nelle azioni, sicuramente sfortunato, e anche in quel caso con l'infortunio anche per Cico, che è dovuto uscire attorno ai primi minuti della ripresa, e Cico è sicuramente un giocatore valido, e che riesce a dare sempre un buon ritmo, anche da un punto di vista tattico, alla formazione piacentina. Bella partita, a mio avviso bella, divertente, è stata sicuramente un'ora e mezza di buon rugby. Classifica, Rovigo e Viadana 32, Colorno 29, Petrarca 27, Valorogui 25, Fiammeoro 22, sette squadre in una decina di punti, quindi battaglia assolutamente di livello, ci sarà ancora tanto veramente bel rugby da vedere, nella prossima giornata due partite, devo dire, su tutte strappano, buttano lì l'occhio, le due partite che si giocheranno la domenica, ovvero Rovigo contro Colorno, e Petrarca contro Valoregby, partite molto interessanti, fatemi sapere un po' ragazzi, un po' un vostro focus sul campionato, una vostra idea su chi potrebbe vincere, e un pronostico, diciamo, quindi un po' su come possono essere le prossime giornate, martedì ricordate ragazzi, segnatevelo, appuntamento con il rugby, soprattutto Serie A Elite, qualche volta che l'URC, poi partiremo con 6 nazioni, e questo sport meraviglioso, cerchiamo sempre di tenerlo sotto la luce dei riflettori, anche di questo canale, come faccio io, riaccendendo la luce, iscrivetevi al canale, fate iscrivervi anche ai vostri amici, alla prossima, ciao a tutti, e un bacio da ROX!